L'organizzazione dei servizi sociali sta cambiando, in particolare quella riguardante il primo accesso che fino ad oggi è sempre avvenuto in diverse sedi. Da lunedì prossimo infatti si avvia un progetto di segretariato sociale in un unico luogo, individuato nel centro commerciale di Sant'Orso. Sarà aperto nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per tutto marzo gli uffici di via Garibalti rimarranno comunque disponibili per fornire informazioni al pubblico. Nel giro di pochi mesi poi anche quelli dell'ambito territoriale sociale 6 si trasferiranno a Sant'Orso. Non appena verranno eseguiti i lavori di ristrutturazione dell'edificio, secondo una prima valutazione dei tecnici, il passaggio potrebbe avvenire entro la fine dell'estate. Questo significa che da ottobre quella diventerà la sede unica di tutti i servizi sociali. Riteniamo che questo sia un passaggio importante che vede un superamento di una frammentazione, diciamo che pur consentendo ugualmente l'erogazione dei servizi che in precedenza venivano date nelle diverse fasce d'età e per quanto riguarda le diverse fragilità e problematicità relative al mondo dei servizi sociali, oggi cerchiamo di superare questi stecconati di tipo organizzativo. Quindi ringraziamo il lavoro che stanno facendo le assistenti sociali e anche la parte amministrativa che consentono davvero una contrazione anche dei tempi nelle risposte e quindi delle prese in carico e un'attenzione ai cittadini più efficace e anche più efficiente.